ciao a tutti allora iniziamo il primo di una serie di video questa è la faccia del giorno non sto a parlarvi della base perché la base è una di quelle è una di quei video che che vi ho fatto tempo fa quindi non sto a spiegarvi i prodotti invece vi faccio vedere il trucco occhi è caratterizzato da qualche prodotto low cost e qualcuno invece ai costa allora è senza rock out questo eyeliner questo per quanto riguarda il trucco occhi e questo eyeliner lilla lo 01 best pop e questo è l'eyeliner liquido che ho passato più di una volta poi come ombretto ho usato questo del urban decay che si chiama stargazzer colore molto molto bello e molto glitterato poi ho usato un altro colore della urban decay qui come come ombra ed è questo violetto che si chiama dive bar e sono tutte e due della linea stargazzer della linea cosmic non mi ricordo più non mi ricordo più come si chiama come si chiama la linea comunque sono sono usciti tutte e due assieme sia stargazzer sia dive bar poi invece come rossetto uno shine lover della lancome il numero è il 346 l'electrissante e questo e questa è la faccia del giorno con i prodotti principali usati come vedete comunque sono sono solo quattro prodotti anche se 123 sono ai cost spero che vi piaccia vi piaccia il trucco vi saluto e ciao a tutti